Musica Dopo la lunga pausa dovuta alle festività natalizie ma anche alle pessime condizioni climatiche che hanno caratterizzato le scorse settimane il centro sportivo El Monumental di Fossa Cesia torna ad ospitare il campionato di calcio a 7 Xen le gare che riaprono il torneo sono quelle che caratterizzano l'ultimo turno di andata che mette in palio il platonico ma significativo titolo di campione d'inverno tre squadre lottano per la prima piazza con due di queste che si affronteranno nello scontro diretto del martedì nel turno conclusivo che precede il giro di Boa la prima giornata fa la parte del Leone con la disputa di tre delle quattro gare in calendario ad aprire la serata ci pensano i per noi C7 impegnati a risalire la china dopo un avvio stagionale deficitario ma con notevoli segnali di miglioramento col trascorrere delle settimane e il Real Lanciano che vuole allontanarsi dalla coda approfittando del turno di riposo del Green Team La Villetta la gara si sblocca al dodicesimo quando Altobelli sorprenderei con un gran sinistro dalla distanza che si infila nell'angolo alla destra dell'estremo frentano quest'ultimo deve arrendersi anche al diciannovesimo quando subisce il bis siglato stavolta da Silveri che va a segno da distanza ravvicinata i frentani sono costretti ad incassare altre due segnature a stretto giro un minuto dopo una sfortunata deviazione di Paolucci va ad anticipare lo stesso Silveri ma spedisce la sfera alle spalle del proprio portiere passa un minuto e il per noi C7 confeziona il poker con Calcan che approfitta di una distrazione di Dell'Anna per soffiargli il pallone tra i piedi e calciare in porta da distanza favorevole i frentani non si scoraggiano per il punteggio pesante a loro sfavore con il quale si chiude il primo parziale e trovano una piccola soddisfazione in avvio di seconda frazione è il settimo infatti quando il Real riduce il divario con Di Florio che infila nel sacco con un diagonale chirurgico dal vertice d'area che si spegne nell'angolino più lontano l'euforia del Real torna a spegnersi nelle battute successive con il punteggio che comincia a diventare abbastanza pesante e con speranze di rimonta che svaniscono progressivamente col passare dei minuti al tredicesimo arriva la cinquina dell'Italo-Romeni a bersaglio con Gian Cristofaro che bagna l'esordio stagionale con un tocco ravvicinato dopo aver aggirato un difensore avversario e lo stesso Rey che non può opporsi al nuovo dispiacere due minuti dopo c'è gloria anche per Cook che realizza la sesta rete con un tocco di furbizia da distanza ravvicinata non è finita visto che dopo il palo centrato da Marchegiano è lo stesso calciatore con la casacca numero 6 che va a segno per ben due volte da prima con un tocco a ridosso della linea di porta sugli sviluppi di una rimessa laterale e tre minuti dopo con un beffardo diagonale sull'accenno di uscita di Rey l'ultima annotazione di cronaca è il nuovo palo centrato dal per noi stavolta da Silveri che non cambia il risultato già ampiamente favorevole alla sua squadra si dice squadra che vince non si cambia ma i per noi C7 questa sera hanno fatto qualche cambio mi sembra anche qualche nuovo acquisto all'esordio in questa gara vittoriosa contro il Real Lanciano e siamo di nuovo a parlare con Gabriel Cook portavoce per questa settimana della squadra per noi C7 quindi man mano che va avanti il campionato le vittorie cominciano ad arrivare sempre più spesso si diciamo che stiamo cominciando a carburare un po' abbiamo portato pure un altro ragazzo nuovo che ci aiuterà un po' di più perché a volte ci mancano i giocatori diciamo che stasera è stata una bellissima partita bella combattuta senza falli bella 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 diciamo che comunque stiamo cominciando a carburare molto di più ci siamo cominciando a intendere di più in campo visto che come abbiamo sempre detto noi veniamo dal campionato di calcetto niente ci stiamo ambientando questa era l'ultima giornata del girone di andata quindi possiamo fare un bilancio di questa vostra esperienza al giro di Boa diciamo che stiamo nella metà campionato stiamo là e combattiamo andiamo avanti andiamo avanti speriamo di avere ancora più vittorie di integrarci bene 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 come gruppo per chiudere un giudizio sugli avversari del Real Lanciano bravi ragazzi tosti giocano come una bella squadra ci è piaciuta la partita ci è piaciuta pure la squadra avversaria giro di Boa appena concluso lo dicevamo anche con Cook del per noi C7 il Real Lanciano purtroppo termina come cenerentola di questo campionato C7 ma c'è tutto il girone di ritorno per rifarsi vero direttore sportivo Umberto Di Florio sì questa sera siamo partiti un po' a freddo loro erano belli caldi sono con uno spirito agonistico importante anche qualche defensione ci ha condizionato ma il girone di ritorno ci rifaremo sicuramente non termineremo come cenerentola perché è un titolo che non ci spetta grazie buona serata a tutti anche perché mi sembra che siete strutturati abbastanza bene c'è l'allenatore, il direttore sportivo quindi mancano solo i risultati sì sì siamo una società abbastanza seria di fatti siamo primi al campionato amatori girone B prendiamo la cosa con abbastanza impegno anche con grandi elementi purtroppo non riusciamo sempre a gestire tutti gli impegni che abbiamo famiglia, lavoro e quant'altro e ci dobbiamo adattare con quelli che abbiamo disponibili insomma questo è quanto così come ho chiesto a Cuc un giudizio sulla squadra avversaria? no loro sono in forma si vede ci si dedicano parecchio non so in che posizione di classifica si trovino insomma ma è un qualcosa di bello bella squadra bel ritmo bei giocatori grande prestazione visto che sei il direttore sportivo qualche nuovo acquisto perché l'altra squadra stasera ha presentato dei nuovi elementi nuovi acquisti purtroppo stasera non sono venuti salvo il numero 4 che è un ragazzo ilberoso quest'anno Nico Fantini buon esterno cerchiamo veramente un portiere e un difensore centrale di riserva perché siamo un po' a corto se qualcuno vuole offrirsi non lo so valutiamo proposte non perdi tempo non perdi tempo la sfida centrale dell'ultimo turno di andata è la gara che mette di fronte i tempi andati all'armata Branca Leone con i primi che intendono risalire la classifica e portarsi in una posizione più tranquilla confermando i progressi dell'ultimo scorcio di campionato contraddistinto dalla pesante affermazione con l'ambizioso Anxanum l'armata Branca Leone che si presenta in campo con una iniziale inferiorità numerica ristabilita nelle battute successive cerca e lascia passare per non perdere terreno dal terzetto di testa ma i piani non sembrano andare come preventivato visto che sono i blaugrana dei tempi andati a rompere gli equilibri dopo tre giri di lancette e Fantini ad andare a segno con una conclusione a ridosso del fondo campo che riesce a sorprendere Sec i giallorossi riagguantano il risultato con Di Loreto che infine è in rete con un tap-in vincente approfittando della corta respinta di Andreoli sul precedente diagonale di Andrea Pellicciotta i tempi andati tornano a condurre al sedicesimo grazie ad Andrea Zangolli che festeggia il nuovo vantaggio con un guizzo davvero rapace d'area sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina l'armata Branca Leone che tenta di reagire viene fermata dal palo che si oppone a Di Loreto prima dell'intervallo i tempi andati aumentano il vantaggio grazie ad Andreoli che riesce a beffare il suo omologo Sec con un beffardo rinvio dalla propria area di porta i giallorossi non demordono e alla ripresa dei giochi accorciano le distanze con Andrea Pellicciotta abile ad anticipare Andreoli in disperata uscita e va a pareggiare i conti con Loris Pellicciotta puntuale a staccare di testa sfruttando un perfetto traversone dal fondo di Di Loreto per la terza volta i tempi andati tornano avanti con le realizzazioni dello scatenato Andrea Zangolli protagonista di una tripletta la sua seconda rete di giornata arriva all'undicesimo puntuale alla stoccata ravvicinata sull'invitante suggerimento di Masciangelo il tris del numero 10 Blaugrana arriva ancora alla distanza ravvicinata ma stavolta sfruttando un piazzato dalla sinistra di Fantini l'armata Branca Leone non si arrende facilmente e gli sforzi vengono premiati al sedicesimo con la quarta rete firmata da Gabriele Pellicciotta appostato sul vertice d'area puntuale a raccogliere lo spiomente dalla destra di Andrea Pellicciotta e a castigare Andreoli sul primo palo in zona Cesarini arriva il definitivo pareggio di Di Loreto che riagguanta il risultato approfittando dell'ottima intuizione di Ferrante che pesca il compagno libero e quest'ultimo non si fa pregare per calciare in porta prima che Andreoli riesca ad intervenire la gara si chiude in perfetta parità un punto che fa muovere la classifica ma non soddisfa nessuna delle due contendenti Ai nostri microfoni come nell'ultima occasione per l'armata Brancaleone abbiamo Gabriele Di Loreto tra l'altro autore della rete che ha permesso ai suoi di riacciuffare un importante pareggio in zona Cesarini giusto? È giustissimo purtroppo stasera abbiamo avuto qualche defezione c'è stato qualcuno che tra gli acciacchi vari abbiamo sofferto un po' questo l'altra squadra è stata all'altezza della partita purtroppo è un risultato che ci sta stretto perché volevamo stare lì alla rincorsa dei primi posti però va bene così dai Bisogna dire che però una tiratina d'orecchie ve la dobbiamo fare perché avete rischiato la sconfitta a tavolino questa sera? Per il fatto che siamo arrivati con un po' di ritardo purtroppo tra il lavoro e ripeto abbiamo un po' di assenza quindi siamo stati purtroppo penalizzati per questo quasi rischiamo la sconfitta però va bene così Onore anche agli avversari? Sicuramente sì hanno disputato una bellissima partita all'altezza abbiamo fatto tutte e due una bellissima partita allo stesso livello alla fine il pareggio penso che sia un risultato giusto per questa sera E per i tempi andati abbiamo Andrea Zangoli stasera ha realizzato anche una doppietta dice lui fortunosi ma insomma sono abbastanza importanti e state migliorando partita dopo partita l'amarezza per essere stati riagguantati alla fine Beh sì l'importante però era venersi a divertire vi dico la verità smaltire qualche panettone natalizio l'importante è lo spirito di questa torneo è proprio questo quindi l'abbiamo presa così e va benissimo così qualche assenza c'è sempre ma l'importante è fare gruppo con gli altri Siete abbastanza numerosi quindi ruotate spesso quindi siete una squadra abbastanza nutrita Siamo in tanti ruotiamo perché insomma il fisico ci costringe a farlo perché altrimenti non usciremo mai dal campo però insomma ripeto il nostro spirito è quello di stare insieme divertirci e quanti più ne siamo meglio è anche perché insomma in campo bisogna correre l'età si fa sentire Questa sera infatti lo spirito del dilettantismo si è visto quando tra l'altro voi avete atteso gli avversari eventualmente potevate anche fregarvene e vincere a tavolino Beh, vincere a tavolino vinciamo a tavola vinciamo in campo bisogna giocare e divertirsi quindi era giusto aspettare gli avversari ci mancherebbe si gioca per divertirci quindi Adesso comincerà il girone di ritorno con quali propositi? Beh, sicuramente dobbiamo essere in qualcuno in più visto che in distinta siamo in tanti che per problemi di lavoro qualcuno manca sempre cercheremo di fare sempre quando si sta in campo si dà sempre il massimo cercando di vincere però ripeto il primo scopo è quello di divertirsi e di stare bene e di non farsi male La serata si chiude con l'ambizioso merengue privo del febbricitante Staniscia ma ugualmente in grado di far sua la partita e coltivare sogni da primato in attesa dello scontro al vertice tra Anxanum e Vecchie Glorie che affronta l'ASD Mozzagroni a squadra di metà classifica e dalle buone individualità ma destinata nello specifico a pagare lo scotto anagrafico vista l'età media notevolmente superiori ai biancazzurri che alla fine trovano giovamento da questo punto di vista soprattutto per la tenuta fisica La gara si sblocca al quinto con i biancazzurri a segno con Sagarese che di rapina anticipa l'estremo bianco-rosso approfittando di un precedente svarione della difesa avversaria Il Mozzagroni non si abbatte e tre minuti dopo trova il pareggio con Cianfrone che fulmina Labrozzi con un perfido diagonale dalla distanza I bianco-rossi potrebbero anzi ribaltare il punteggio con il bolide di Amaddeo che si stampa sul palo alla destra di Labrozzi Scampato il pericolo le merenghe tornano avanti con Lanci a segno con un sinistro di prima intenzione dal vertice d'area e lo stesso Lanci a far decollare il punteggio tornando nel tabellino marcatori con un tocco di fino dopo aver messo a sedere un paio di avversari il punteggio comincia a diventare pesante con tre reti dei biancazzurri nel giro di altrettanti minuti al diciannovesimo ci sono addirittura due reti la prima con Sagarese che si trova in traiettoria sul tiro dalla distanza di Lanci e da due passi in fila alle spalle dell'estremo bianco-rosso e pochi istanti dopo con lo scatenato Lanci che per la terza volta imprime il proprio sigillo stavolta con un preciso diagonale sull'assist di Sferrella che si stampa sul palo più lontano e termina la sua corsa in fondo al sacco due minuti dopo il vantaggio diventa tennistico con la fortuita deviazione di Amaddeo che infila nella propria porta nel tentativo di impedire a Sferrella di offrire l'assist invitante per Sagarese i bianco-rossi hanno un colpo di coda alla riapertura dei giochi confezionando due reti che sembrano riaprire i discorsi a pochi secondi dal riavvio della contesa Emancia gioire con un tocco ravvicinato sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina e qualche minuto dopo li fa compagnia Cianfrone con un bolide imprendibile per Labrozzi su palla inattiva Sferrella fa tornare gli avversari con i piedi per terra inaugurando la sua serata nel tabellino marcatori ma la difesa avversaria deve mordersi le mani per aver lasciato tutto solo il temibile bomber biancazzurro che si ripete in altre due occasioni prima del rompete le righe larga vittoria del merengue sul volenteroso Mozza Grogna che ha retto quasi alla pari finché il serbatoio del carburante non ha cominciato a svuotarsi i tre punti incamerati consentono al merengue di laurearsi campione d'inverno approfittando della sconfitta delle vecchie glorie nello scontro al vertice del martedì sera con l'Anxanum alle vecchie glorie non sono bastate le reti di Matteo Massimini del bomber Antonio Di Battista e di Francesco Primavera l'Anxanum si è imposta infatti con le doppiette di Gianluca Rullo e di Riccardo Pagano appuntamento anche con le nostre telecamere per lunedì prossimo giornata d'avvio del girone di ritorno Tre gol per Bruno Sferrella che torna a guidare la sua squadra le merengue oggi vittoriose contro un ottimo ASD Mozzagrogna un giudizio su questa gara e poi sul girone di andata che è appena terminato per quanto vi riguarda Ciao Antonio, buonasera Allora, per quanto riguarda la partita di oggi questa bella partita maschio, combattuto anche se abbiamo giocato con una squadra ed avanzata però una bella squadra si sono difesi bene bella partita dura e per quanto riguarda il girone di andata siamo più che soddisfatti noi penso che siamo tra le prime se non primi, secondi o terzi massimo siamo comunque a buon livello siamo tutti lì la classifica è corta un bel torno ci divertiamo togliendo il freddo e l'umidità però siamo bene Vabbè, tra qualche mese poi le partite si giocheranno a temperature più umidi quale squadra secondo te vi darà del filo da torcere per la vittoria finale? Ma allora ci sono due o tre squadre i nomi ne ricordo tutti San Sanon Viaggi l'armata Branco Leone se non mi sbaglio è un'altra squadra che ora non mi ricordo il nome le vecchie glorie mi sembra quindi ci divertiamo comunque siamo tutti amici siamo a posto così Pubblicizzerai questo torneo anche ad altre squadre per l'anno prossimo? Sì, sì ma già lo stiamo facendo anche grazie al tuo aiuto comunque ogni volta tutti chiedono dove è stata a giocare di qua e di là quindi penso che come primo anno sta andando bene il prossimo anno andrà sicuramente molto meglio Grazie a tutti